Sì, questo territorio è arretrato, questo territorio ha bisogno di una spinta culturale, l'università ci sta provando, anzi lo ha già fatto secondo me in buona parte, adesso diventa un problema economico. Dati e storie di successo ed eccellenza, quelli presentati oggi dai direttori dei dipartimenti dell'Università di Foggia, unitamente all'area orientamento e placement, per dimostrare il livello di qualità formativa dell'Ateneo, sempre più attento alle esigenze del mercato del lavoro, in continua evoluzione. Uno slancio in avanti in termini di modernità e innovazione dei percorsi formativi, che sperando possano fungere da traino per la crescita e lo sviluppo del territorio, allo stato attuale però stridono molto con la retratezza del suo tessuto sociale, economico e culturale. Se le aziende hanno bisogno di innovazione, di innovarsi, hanno bisogno di investire, e quindi noi possiamo arrivare fino a un certo punto. La nostra collaborazione con le aziende e col mondo lavorativo è sicuramente piena. Spero, onestamente spero, che di qui a qualche anno si possa dire che i ragazzi sono rimasti qui. Però oggi storie e dati di eccellenza. Sì, storie e dati di eccellenza, ragazzi che si sono laureati domani, che si laureeranno domani i primi laureati in scienze giuridiche della sicurezza, che è una nostra magistrale del Dipartimento di giurisprudenza, si sono laureati col massimo dei voti in tempo e hanno già trovato lavoro in grossissime aziende di privacy, di riservatezza, in grandi multinazionali. Quindi questo vuol dire che abbiamo lavorato bene, loro ovviamente hanno lavorato benissimo e quindi sono pronti per affrontare il futuro.